Signora Presidente, signora Commissaria, la Commissione della quale lei fa parte ha più volte annunciato la pubblicazione del suo piano di azione sulla mobilità urbana, che avrebbe dovuto essere sottoposto al Consiglio del Parlamento fin dallo scorso autunno. La Commissione ha preso questo impegno concludendo lo scorso marzo la consultazione sul libro verde e sulla mobilità urbana, lanciata fin dal 2007. Lo ha ribadito nel suo piano di azione per la logistica del trasporto merci del 2007, lo ha ribadito nella comunicazione della sua strategia per l'internalizzazione dei costi esterni del trasporto nel 2008. Il tempo passa, ma il piano di azione non vede la luce. L'avvicinarsi della fine dell'attuale legislatura fa temere alla Commissione parlamentare che qui rappresento che molto del lavoro fatto in questi anni rischi di vanificarsi. Mi può, signora Commissaria, rassicurare che il piano di azione è pronto? Mi può dire che verrà reso pubblico nelle prossime settimane, in modo da consentire a questo Parlamento di finalizzare le sue raccomandazioni, quelle contenute nella risoluzione RAC verso una nuova cultura della mobilità urbana, votata da quest'Aula in luglio del 2008? Signora Commissaria, la mobilità urbana è indiscutibilmente fenomeno che si manifesta localmente, fenomeno che vedrà sempre prevalere la competenza locale, su quella nazionale, su quella comunitaria. Ma non per questo è fenomeno da affrontare senza alcun intervento statale o comunitario. E chi, se non l'Unione Europea può, deve definire il ruolo comunitario in argomento? Chi può, deve interpretare i limiti imposti del principio di sussiderietà in questo campo? Il sottrarsi della Commissione e quindi dell'UE a questo ompito non aiuta la soluzione dei problemi del trasporto urbano e della mobilità dei cittadini, né quelli relativi all'inquinamento atmosferico nelle città, e sappiamo che il 40% delle emissioni di CO2 sono da trasporto urbano, che il 70% degli altri inquinanti a trasporto sono urbani, né quelli relativi alla sicurezza stradale. Sappiamo che più del 50% degli incidenti mortali si producono nelle città, né quelli relativi alla produzione dei consumatori, i cittadini più deboli, quelli la cui mobilità dipende dal trasporto pubblico. Possiamo permettere che esistano differenze da Stato membro a Stato membro, da città a città, da città a città, negli standard di difesa dell'ambiente urbano, negli standard di sicurezza stradale in città, negli standard di accessibilità dei cittadini alla mobilità, o non sono questi diritti fondamentali che l'Unione dovrebbe contribuire a garantire a tutti i cittadini europei? Allora, definizione di standard, obiettivi minimi e uniformi, ma anche buone pratiche, incentivi anche finanziari, coordinamento e progetti innovativi, costruzione e diffusione di statistiche affidabili e comparabili. Non è questo uno spazio che, se occupato dall'Unione, aiuta il rispetto delle soluzioni sussidiarie, delle quali gli Stati membri delle collettività locali hanno tutto il diritto di essere gelosi? Signora Commissaria, può darsi che lei adesso ci venga a disporre un elenco di buoni motivi per il ritardo, al limite dell'omissione, nella presentazione del piano d'azione sulla mobilità urbana? Si domandi, prima, qualora volesse tentare di difendere il mancato rispetto dell'impegno assunto, se si tratti davvero di ragioni e non di banali scuse. Non avvalori, signora Commissaria, l'idea che si va diffondendo in questi ultimi tempi che la Commissione sia diventata così prudente da rinunciare a risolvere i problemi dei popoli europei per non disturbare gli Stati. Sarebbe una strategia suicida per un'istituzione e la Commissione che non esce rafforzata dal buon semestre di presidenza francese. Delivery, delivery e delivery, per dirla all'inglese. Questo è quello che vogliono i cittadini europei, per questo e solo per questo sono pronti, credo, potrebbero essere pronti a rivedere verso l'alto il loro apprezzamento per le nostre istituzioni. Il piccolo esempio del piano urbano di mobilità potrebbe dare un contributo molto importante alla soluzione di questo problema più grande. Grazie, signora.